buon pomeriggio ragazzi sono il flaco e da un po di tempo che non facciamo un video così in giro ultimamente abbiamo ripreso spiagge marine viaggi oggi però finalmente siamo riusciti io ed Alessia a farci una bella passeggiata qui nel centro di Lecce perché hanno praticamente montato il villaggio di Natale scusate ma ho l'orzaiolo oggi però non mi usciva da quando era bambino e niente andremo a vedere questo villaggio di Natale hanno montato un po di cose che chiaramente vi farò vedere siamo in questa domenica dell'8 dicembre bellissima non fa per niente freddo e niente ci facciamo questa passeggiata e andremo a vedere un po la nostra Lecce a dopo dunque ragazzi qui siamo in piazza Mazzini a Lecce nel centro diciamo commerciale dove sono state montate appunto queste bancarelle però più in là nel centro storico troveremo sicuramente il presepe e tutti gli addobbi natalizi intanto facciamo un giro qui e poi proseguiamo allora ragazzi come avete ben notato siamo arrivati nel centro storico e niente adesso riprendiamo un po quello che vi avevo preannunciato prima all'uscita e vediamo che ci sono speriamo di farci un bel giro qui a Lecce che mi mancava veramente tanto allora ragazzi siamo in piazza Duomo qui a Lecce sempre alle mie spalle potete vedere il Duomo ed è stato anche preparato un bel presepe tra l'altro hanno riprodotto in piccolo quello che è uno scorcio di Lecce storica stiamo parlando dell'arco di Prato e lì dentro dopo averlo costruito di sana pianta in miniatura chiaramente è stato adibito il presepe 2019 adesso noi continuiamo il giro io intanto faccio un giretto così vedete questa è piazza Duomo ripeto una delle più grandi piazze chiuse d'europa a 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 iscrivetevi al canale e visitate anche il mio sito www.dalleplay.it e dal flaco e alessia bye bye a 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